Ciao e bentornati su GM Photo Art Oggi farò il secondo vlog Si parte Andiamo Grazie a tutti Sono arrivato e qua c'è un panorama fantastico Non potete immaginare Si vede tutta la zona pianeggiante dell'Umbria Si parte da Trevi Arrivando a Furigno, Spello fino a Sisi È una cosa fantastica No potete immaginare la zona pianeggiante dell'Umbria No potete immaginare la zona pianeggiante dell'Umbria No potete immaginare la zona pianeggiante dell'Umbria Bene siamo arrivati alla fine di questo vlog Se questa avventura ti è piaciuta Non esitare a mettere un like a questo video E noi ci vediamo con il prossimo vlog Ciao No potete immaginare la zona pianeggiante dell'Umbria No potete immaginare la zona pianeggiante dell'Umbria